E questi danno testimonianza. Cioè, primo, obbedienza. Secondo, testimonianza, che dà tanto fastidio, eh? E tutte le persecuzioni che sono, da quel momento fino ad oggi, pensate ai cristiani perseguitati in Africa, in Medio Oriente, ma ce ne sono più dei primi tempi. Oggi, in carcere, sgozzati, impicchiati per confessare Gesù. Testimonianza fino alla fine.